Sparita all'improvviso dalla sua casa di Bulciago assieme al marito e ai figli, forse per andare in Siria e unirsi allo Stato Islamico. È la storia di Alice Brignoli, 39enne ecomasca, è nata a Erba e cresciuta a Inverigo, tornata al centro dell'attenzione nelle ultime ore dopo l'ultima maxi-operazione antiterrorismo che ha portato a sei ordinanze di custodia cautelare, di cui due nei confronti della coppia bulciaghese. Secondo gli inquirenti, moglie e marito assieme ai figli sarebbero nei territori iracheno-siriani e si sarebbero uniti al califato. Uno scenario ipotizzato mesi fa dalla madre della donna che, dalla sua casa di Inverigo, aveva denunciato la scomparsa della figlia e dei piccolissimi nipoti. Oggi a Inverigo non è stato possibile raggiungerla, mentre a Bulciago resta lo sconcerto. Dico la verità, li avevo conosciuti in modo occasionale quando erano stati a segnatare l'alloggio. Ma né prima né dopo poi ho avuto molto a che fare, che poi facevano la loro vita, da quello che poi abbiamo saputo anche abbastanza riservata. Più o meno da un anno che non abbiamo più notizie, diciamo che noi siamo venuti al corrente della cosa perché loro erano segnatari di un appartamento di case popolari. Per cui dopo qualche tempo i vicini ci hanno segnatato che non erano più presenti in abitazione, abbiamo fatto le nostre verifiche e adesso è uscita questa cosa, che forse sono giù in Siria, non so. Chiaramente siamo preoccupati più che altro per i tre bambini piccoli che hanno. Noi di nostro ci siamo attivati per seguire l'iter classico, che è quello di poter riassegnare l'alloggio a altre famiglie bisognose, chiaramente. Abbiamo anche cancellato loro dalla residenza del paese perché dopo tante volte di tempo li treblocate con quello che prevede. Spiace, spiace perché poi ti fa capire che anche il tuo vicino di casa potrebbe avere certe idee.